Marco Presutti, vogliamo parlare delle iniziative che porterete avanti nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, come Istituto Nazionale di Studi Crociani. Sì, l'Istituto Nazionale di Studi Crociani, nell'ambito dell'attività che svolge la Fondazione Dovardo Tiboni per la Cultura in Abruzzo, presenterà a breve, domani, una presentazione di un libro molto importante di Paola Sorge, Cabaret, che è un libro che ripercorre un genere culturale fondamentale nella Germania del Novecento, un genere che è stato in molti momenti, soprattutto durante il nazismo, forse l'unica valvola di sfogo per far uscire temi che la censura del regime non permetteva. Quindi un genere apparentemente leggero, che però è stato un elemento fondamentale del dibattito culturale, della capacità culturale di quel paese. Poi, proprio come Istituto Nazionale di Studi Crociani, il 21 aprile presenteremo il nuovo carteggio Croce Gentile, appena ripubblicato da Ragno, con la sua curatrice, la professoressa Castellani, un'iniziativa che facciamo con la società filosofica italiana, col professor Carlo Tatasciore. È un momento molto importante perché, come è noto, il sodalizio tra questi due giganti del pensiero italiano del Novecento, cioè Croce Gentile, è stata grande parte della cultura di questo paese. Le attività dell'Istituto proseguiranno, poi, sempre promuovendo sia l'approfondimento e la divulgazione del pensiero di Croce, della sua opera, ma anche della cultura abruzzese come tradizione di istituto e come omaggio all'origine abruzzese di Benedetto Croce. Tra l'altro, presutti, questi appuntamenti arrivano a poche ore dalla scomparsa della figlia di Benedetto Croce. Infatti, l'Istituto ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa dell'ultima nata della famiglia Croce e fa impressione pensare che questo lascito, in qualche maniera, fosse arrivato fino ai nostri giorni e quindi sicuramente la ricorderemo il 21 in occasione della presentazione del carteggio di suo padre.